Penso che il studio M possa darmi proprio un approccio migliore alla vita, il fatto di saper affrontare ogni situazione, una crescita a livello proprio emotivo. Sono stati due giorni intensi in cui c'è stato proprio uno scambio reciproco tra tutti i ragazzi, c'è chi anche in così poco tempo mi ha saputo dare un qualcosa, mi ha saputo insegnare un qualcosa, è stato bellissimo per questo.